Eccoci qua, eccoci qua in diretta, adesso funziona tutto, spero, datemi i vostri segnali, aspettiamo un pochettino che arrivi un po' di gente, datemi segnali che allora cominciamo la nostra diretta, cominciamo la nostra diretta, vediamo un po' che arrivi un po' di gente. State entrando, sì, eccoci qua, molto bene, molto bene, Zenaide sta arrivando, ciao Zenaide, eccoci qua, eccoci qua, buongiorno, buon sabato innanzitutto, buongiorno e buon sabato, ciao Zenaide, ciao, ben ritrovata, oggi si starà molto bene nel tuo castello. Allora, produttività, riprendiamo il tema della produttività che abbiamo fatto la volta, sabato scorso, ok? Riprendiamo questo tema e vediamo subito quella che è l'essenza di questo tema. Perché? Perché dalla produttività, ragazzi, dalla produttività dipende tutto, dipende tutto quanto. E allora volevo partire con quelli che sono sostanzialmente i pilastri della produttività, no? I pilastri della produttività, innanzitutto la produttività si divide in due categorie. La prima categoria di strumenti è una categoria di livello strategico e la seconda è una categoria di strumenti di livello operativo. Non c'è più importante uno dell'altro perché dovete essere bravi sia nella parte strategica che nella parte operativa. C'è moltissima gente che è capace di pianificare e programmare molto bene ma poi si perde nell'operativo. C'è moltissima gente che è bravissima nell'operativo ma poi si perde nello strategico, nelle cose importanti. Vi ricordo che le mie dirette live sono fatte per prendere appunti, sono fatte per partecipare, sono fatte per condividere. Prendere appunti, partecipare e condividere. Ricordatevi che questa è la cosa molto, molto bene. Bene Nicola, sei nuovo ma vedrai che acquisirai. Intanto armati di penna e quaderno, penna e quaderno, penna e blocco eccetera perché è molto importante partecipare e condividere. Oggi continuiamo sul tema della produttività. La produttività ha sei pilastri iniziali che io consiglio ed è molto molto importante. Sei pilastri iniziali che ritengo che siano il cuore. Poi vi farò anche un regalo oggi. Farò un regalo a tutti quelli che assisteranno alla diretta, che arriveranno fino in fondo della diretta. Un regalo inaspettato ma piacevole perché darà valore aggiunto e contributo alla vostra attività professionale ma anche personale perché la produttività interessa un po' a tutti quanti. Primo elemento di produttività importante è uno strumento che si chiama Evernote. Questo strumento che si chiama Evernote è uno strumento, lo ricordo ancora una volta perché vorrei capire chi di voi l'ha scaricato innanzitutto. È quell'elefantino che vedete. Vedete l'elefantino? Adesso io non so se... forse vediamo un po'. Questo elefantino qua. Eccolo qua. Ok? Questo elefantino qua. Cos'è Evernote? Evernote è un grande classificatore, grandissimo classificatore, dove voi, ascoltatemi bene, molto bene, potete inserire tutto, tutto quello che vi accade. Avete presente le cartelle del vostro PC? O avete presente i classificatori, quelli, diciamo, di una volta? Ecco, il Evernote può mettere dentro cartacei, tutto del pacchetto office, può mettere dentro audio, può mettere dentro foto, può mettere dentro ritagli di giornale, può mettere dentro ritagli di web, fotografie dei vostri appunti. Insomma, è un'app che vi dà straordinaria. Dov'è il problema di Evernote? Dov'è il problema di Evernote? Il problema di Evernote è uno solo. Che tantissimi lo scaricano e pochi lo utilizzano. Tantissimi lo scaricano e pochi lo utilizzano. E quindi perché? Perché è difficile. E allora dovete assolutamente smanettarci dentro, tutorial, andare via di tutorial e voi riuscirete a utilizzarlo bene. Quanti di voi, dalla volta scorsa, partecipanti alla diretta live di sabato scorso, l'hanno scaricata? Alessio, bene arrivato! Alessio Brusemini, poi parleremo anche di Osa. Parleremo di Osa e parleremo di tutta quanta quella, diciamo, quel rumorio che stiamo facendo in tutta Italia con la nostra community. Quindi Evernote è il primo assolutamente importante. Secondo, molto importante, Todoist. Todoist è questa app qua, che vi faccio vedere. Ed è una app di carattere veramente... Eccola qua, la vedete? Questa qua è Evernote. E Todoist? Ok? Eccola qua. Eccola qua. Vediamo un po' se... Chiudendo la luce magari no. No, no, no. Non si riesce. È una rossa praticamente. Io li ho provati tutti. Li ho provati tutti. Li ho provati tutti. Francesco, ascoltando il tuo consiglio, li ho applicato. Grazie, è fantastico. Todoist serve per cosa? Todoist è suddiviso in, prendete nota, inbox classica, oggi, tutta la lista di core che dovete fare oggi, e i prossimi sette giorni. Inbox, oggi e i prossimi sette giorni. Tre livelli, tre livelli. Oltre ai tre livelli potete avere anche il Team Inbox. Cos'è il Team Inbox? Il Team Inbox è sostanzialmente la possibilità di condividere i progetti. Quindi, oltre a questi tre, avrete tutto un discorso di progetti, ok? Eccoli qua, i progetti, che voi potete fare. E poi avrete due cose che sono le etichette e i filtri. Finito. Finito Todoist. Quindi, inbox, oggi e i prossimi sette giorni, tre livelli, progetti, filtri, etichette. Finito. Todoist è molto più semplice di Evernote. Evernote è molto più complicato. Ma Evernote è straordinario. Avete, avrete, quando avete iniziato a smanettarci molto bene, avrete la possibilità di entrarci dentro e avere sempre con voi, ciao Canio, ben arrivato, avere sempre con voi nel PC, nel Smart Tablet, nel cellulare e in qualsiasi connessione internet. E in qualsiasi connessione internet. Siete in vacanza, siete da qualsiasi parte, volete vedere i documenti degli incontri con Mirko Gasparotto, avete fatto sei incontri con Mirko Gasparotto, avete degli appunti, avete delle cose, avete delle fotografie, avete qualsiasi cosa da guardare, degli incontri, sei che avete fatto con Mirko Gasparotto, voi potete andare su internet, entrare su Evernote, andare dentro e telefonare a Mirko Gasparotto e farvi vedere sul pezzo. Sul pezzo, ok? Quindi, straordinariamente importante, straordinariamente importante il discorso di Evernote. È lo strumento di produttività, è il principe degli strumenti della produttività. Poi abbiamo Evernote Duist, I Mind Map, Matteo Salvo. Quindi tutti noi abbiamo la necessità di lavorare a mappe e quando parlo di lavorare a mappe, adesso vi faccio vedere, parlo di questa roba. Lavorare a mappe, in questa maniera, ok? Quindi, io quando arrivo sulle mie scrivanie, cosa faccio? Quando arrivo sulle mie scrivanie, mi metto giù le mie mappe di quel momento, di quella situazione, di quell'azienda, di quel contesto. I Mind Map è veramente importante. Ciao Arianna, sì, hai ragione, hai ragione. Matteo Salvo è veramente un grande, campione del mondo di memoria, brava persona, straordinaria, eccetera. I Mind Map è straordinario. Quindi Evernote Duist, I Mind Map. Poi, un altro strumento di estrema produttività è Skype. La gente non usa Skype, la gente non utilizza la possibilità di fare conferenze Skype live, perché sostanzialmente ci si vede. Fino a 25 persone. Fino a 25 persone. Poi c'è un'altra applicazione che si chiama, applicazione, ciao, ciao Arianna, ben arrivata. C'è un'applicazione che si chiama Ever, ok? E questa applicazione che si chiama Ever, il mio social media manager Alessandro Borghezan, che introduco a tutti, dovrebbe mettermi sotto gentilmente il link dell'Ever. Cosa serve Ever? Ever serve perché se dovete registrarvi qualche Skype per ritornare sull'argomento, avete la possibilità di farlo, ok? Quindi, Evernote, Todoist, I Mind Map, Skype e poi, per avere un overview, diciamo, sempre pronta, vecchia carta. Vecchia carta perché? Perché non c'è nessun strumento che vi possa garantire l'overview di un pezzo di carta, ok? Allora, io ho una mia lista di, diciamo, eventi, che è questa qua, e su queste, una, una, due, tre, quattro, quattro, diciamo, su quattro fogli a quattro, quattro fogli a quattro, c'ho tutto il 2018. Eventi, eventi, solo gli eventi, quindi le cose a cui voi partecipate, insomma, eccetera. Non ha nulla a che vedere con il Google Calendar o qualsiasi altro calendario, perché? Perché nel Google Calendar ci mettete dentro gli appuntamenti, tutte le cose che non hanno nulla a che vedere, ma gli eventi, cioè le cose importanti, dovete metterle dentro qua, su questa lista qua. Avete preso nota? State prendendo nota, perché è importante. 5 elementi di produttività strategica. Evernote, Todoist, iMindmap, Skype, unito a Everar e lista degli eventi a 4, 6 o 12 mesi. Ripeto, Evernote, numero 1, Todoist, numero 2, Skype, unito a Everar, numero 3, lista di eventi, diciamo, 4, 6 o 12 mesi, a seconda di voi volete. E adesso arriviamo a quello che è il sesto pilastro della produttività, che però dovrebbe essere messo al primo posto, che è il quadrante Covey o quadrante Eisenhower. Chi utilizza il quadrante Covey o il quadrante Eisenhower? Ovviamente non c'è tempo nel modo più assoluto, perché abbiamo già bruciato 14 minuti di diretta. Le dirette sono di 30 barra 45 minuti, ok? E quindi è importante darvi degli spunti che poi voi potete andare a vedere. Quindi questi sono i 6 elementi di produttività straordinaria. Evernote, Todoist, iMindmap, Skype, unito a Everar, lista dei 4 eventi e studiare bene il quadrante Covey. Molto, molto importante. Questi sono i 6 importanti. Adesso andiamo in un fiume di, diciamo, di strumenti straordinariamente pratici. Allora, vi annuncio per la prima volta il regalo che vi faccio oggi. Vi faccio un regalo a tutti coloro che si iscrivano al gruppo Live Messenger. E adesso Alessandro Borghezan vi darà il link. Quindi tutti coloro che si iscrivono al gruppo Live Messenger, ok? Riceveranno subito in PDF, subito in PDF, una raccolta dei miei post di 30 pagine sulla produttività. Quindi avete tutto quanto... Alessandro, per cortesia, mandiamo il link in diretta del Messenger. Cominciamo con il discorso delle cose della produttività. Spicciole, cose spicciole che vi servono e che sono molto importanti per voi. Allora, il discorso di frequentazione delle persone. Molto importante. Dovete avere le persone che siano frequentate a seconda del grado di necessità. Cosa vuol dire? Dovete farvi la lista delle persone che... Ciao Walter, ben arrivato! Delle persone che merita vedere una volta al mese. Una volta a settimana. Delle persone che meritano di essere viste una volta al mese. Delle persone che meritano di essere viste una volta ogni tre mesi. Delle persone che meritano di essere viste una volta ogni sei mesi. E delle persone che meritano di essere viste una volta ogni anno. Cinque categorie. Cinque categorie di persone. Nel Todoist, mettete dentro, io desidero incontrarmi con Mirko Gasparotto una volta a settimana io desidero di incontrarmi con Mirko Gasparotto una volta al mese io desidero di incontrarmi con Mirko Gasparotto una volta ogni tre mesi una volta ogni sei mesi e Todoista ve lo ricorda e anche questa è una produttività ricordatevi che gli elementi di produttività servono per un semplice motivo ci sono tre numeri magici nella vita di tutti noi 12, 50 e 3 mila cosa sono 12, 50 e 3 mila? beh, sono una cosa molto semplice 12 sono le ore massime che uno può lavorare al giorno con un certo focus 50 sono le settimane che può lavorare 3 mila sono le ore a disposizione lavorando 12 ore al giorno 5 giorni alla settimana quindi è veramente molto importante veramente molto, molto determinante fare questo discorso qua poi, telefonate a fasce orarie le telefonate a fasce orarie postatevi, io ho due fasce orarie dalle 6 e mezza alle 9 al mattino e dalle 19 alle 21 alla sera voi siate accessibili solo a queste due fasce orarie perché così potete coordinarvi la vostra produttività giornaliera poi la lista broadcast lista broadcast nel Whatsapp c'è ancora gente che non la conosce Marco, scrivi esattamente che risultati hai ottenuto con la lista broadcast la gente non conosce le liste broadcast molto importante ok? e questa è veramente una cosa determinante chi non avesse mai fatto nulla di produttività per chi non ha mai fatto nulla di produttività allora consiglio il mio libro Basta chiacchiere consiglio il mio libro Basta chiacchiere scritto nel 2011 questo libro è una fantastico fantastico una fantastica guida un fantastico manuale per la progettualità della nostra vita quindi partiamo dalle aree poi abbiamo i ruoli poi abbiamo gli obiettivi poi abbiamo le attività operative la quantificazione delle attività operative va mecciata va mecciata con i 3000 3000 è il vostro numero magico 3000 sono le ore della vita professionale più aggiungete il sabato o la domenica e lo distribuite come volete però chi non ha mai fatto nulla basta chiacchiere lo vedete sullo comprate online dove volete e lì questo è un manuale veramente interessante per la produttività dettatura altra cosa su whatsapp dettatura vocale dei messaggi la gente non usa né i messaggi vocali né la dettatura i messaggi vocali ok e la dettatura sono due cose molto 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 importanti messaggi vocali e dettatura la dettatura dovete allenarvi è ovvio che insomma il vostro smartphone non può ottenere tutto quindi allenatevi dettatura messaggi vocali e sostituzione del testo dettatura messaggi vocali sostituzione del testo cosa significa? che dentro il vostro smartphone avete la possibilità di sostituire il testo quando voi ricevete telefonate o altro non potete rispondere è inutile che dite vi chiamo dopo è una cazzata ok è una cazzata dire vi chiamo dopo voi dovete avere un testo pronto e dire guarda sono faccio questa roba qua e quindi voi con una sigla con due lettere tre lettere fate la sostituzione del testo e che è anche molto importante un'altra cosa intanto mi prendo la mia Alka Energy cos'è? l'Alka Energy dovete andare sul sito di Alex Viola che è inventore del protocollo Alka Energy qua vedete e questo vi dà tutta l'energia che vedete traspirare nonostante uno che sia andato a letto alle due di notte e abbia comunque fatto una serata importante ed è qui per voi in grande forma perché è alle otto ero in piedi quindi questo per la produttività va bene anche ma sarà oggetto di un'altra live questo discorso qua ok altro elemento di produttività state prendendo nota? state prendendo nota guardate che guardo ditemi chi sta prendendo appunti per cortesia niente supercazzole su quelle dirette mie e in generale sulle mie cose cose concrete voglio che usciamo dalla diretta con un bel po' di appunti seri scritti bene che possono giovare per le vostre vite questo è l'obiettivo della mia diretta ricordatevi bene l'obiettivo della mia diretta è questo attenzione attenzione produttività significa anche rubricazione corretta rubricazione corretta significa che voi quando ricevete i bigliettini da visita quando voi ricevete i bigliettini da visita dovete andare a rubricare dentro il vostro smartphone correttamente sta roba ok e è importantissimo non dire Gigi qua su Mario idraulico questo l'altro nome cognome attività della persona e tramite chi l'avete conosciuta ripeto nome cognome e attività della persona tramite chi l'avete conosciuta è molto importante e poi avete anche la possibilità vedo che moltissimi veramente moltissimi prendono nota su questo discorso ottimo veramente grazie grazie veramente a tutti quanti di questo discorso perché per me è molto importante sta roba qua che tutta quella roba che vi dico adesso eccola qua quindi appunti molto importante cancellazione di appunti inutili eccetera altro elemento di produttività è questo qua ve lo mostro adesso perché è una roba in diretta dove l'ho messo dove l'ho messo vediamo adesso che lo tiro fuori e ve lo mostro anche questo perché è una cosa molto importante il quaderno degli appunti il quaderno degli appunti eccolo qua eccolo qua il quaderno degli appunti che è questo qua vi serve formato a 5 70 fogli formato a 5 cosa servono questo Mirko perché ci dici della carta so già cosa voi vi state riferendo semplice ragazzi quando voi state parlando al telefono o avete un appuntamento non potete subito mettere dentro su Evernote le cose o sul pc o dove volete intanto voi vi scrivete qua sta roba su questo ok ve lo scrivete vi sottolineate quello che è il testo ok una volta scritto e sottolineato il discorso voi poi con calma ve lo trasferite in Evernote ve lo trasferite in Todoist ve lo trasferite nella cartella del vostro pc dove voi volete però questo è un altro elemento di produttività veramente molto importante altro elemento di produttività molto importante è il mio amico Livio Criscino ha una società che si chiama segretaria.me segretaria.me dove voi Livio non so se tu ci sei in diretta oggi comunque dove praticamente voi potete avere una signorina a vostra disposizione con poche migliaia di euro mensili che vi filtra le telefonate vi filtra le telefonate è importante e dice all'interlocutore in maniera molto professionale che state facendo questa o quella cosa e poi voi ricevete nella vostra app direttamente nel vostro pc nel vostro smartphone tablet tutto quello che volete esattamente la persona che vi ha cercato e perché vi ha cercato e poi voi richiamate e richiamate in una certa maniera ok questo è un altro elemento di produttività altro elemento di produttività importante oggi ve ne dico fuori parecchi ciao Gianni ciao Gianni Gianni Solieri bravissimo lui è un esecutore straordinario Gianni Solieri è un esecutore straordinario allora altra cosa molto importante vi svelo quando voi dovete cercare qualsiasi persona cosa fate ad esempio facciamo un passo indietro elemento di produttività è trovare delle persone che facciano delle piccole commissioni per voi ok pensionato la persona l'amico di casa il vicino eccetera voi non potete fare ah ok Marco Rubin non vedo l'ora di venire il 13-14 aprile dopo parliamo anche del 13-14 aprile trovare delle persone che vengono a sostituirvi in commissioni piccole la bolletta la banca la posta la spesa tutte queste cose qua pagate la chiamata pagate la chiamata e voi state concentrate sulle vostre cose allora come trovare queste persone perché lui dice ma come fare queste persone qua no? è un'altra un altro piccolo segreto che vi dico voi dovete usare Kijiji Kijiji cos'è Kijiji? è un portale di ebay sostanzialmente dove ci sono circa 5 milioni di persone 5 milioni di persone gratuito totalmente gratuito voi andate su Kijiji ok? e voi ciao Vincenzo Greco Manuli ciao ciao voi andate su Kijiji fate il vostro diciamo annuncio e poi vi piovono le opportunità senza andare tramite altre cose Kijiji è molto importante altro elemento di produttività operativa produttività operativa signori scaricatevi la app di Whatsapp desktop scaricatevi la app di Whatsapp desktop perché? perché se sia che avviate qualsiasi pc che avete e sincronizzatela perché scrivendo dal pc voi avete la possibilità di essere molto più veloci molto molto più veloci avete la possibilità di essere velocissimi quindi scaricando la app avete questo discorso qua e molto importante molto importante come elemento di produttività decidere le persone che dovete incontrare o meno non sto parlando della periodicità di prima cioè la decisione di incontrare o meno una persona a seconda del fatto se questa persona è fra le vostre priorità o meno è molto importante questo discorso è molto importante questo ragionamento perché tante volte noi vediamo un sacco di persone che sono inutili sono inutili queste persone e non aggiungono valore alla nostra vita ok? quindi molto importante vi piace la diretta così sulla produttività sì? ok? va bene nella lista degli eventi ok? io vorrei anche ricordarvi quelli che sono gli eventi di OSA perché OSA sta andando alla grande cos'è OSA per i nuovi? OSA è la community dell'Italia che produce costituita da me e da Alessio Brusemini ed è una community che sta andando alla grande abbiamo sede nord-ovest a Milano abbiamo sede nord-est a Vicenza abbiamo sede a Roma del centro Italia e avremo sede a Napoli per il sud e a Catania per la Sicilia ok? quindi è molto molto interessante volevo solo ricordare ecco vedete questa lista è 20 qua è importante che voi ve la facciate a mano perché in un attimo quando uno mi dice un evento dovrei andare in Google Calendar dovrei andare su altre cose ma non c'ho una cosa condensata invece qua vi dico che il 15 marzo siamo in tour Osa a Torino il 20 marzo siamo in tour Osa a Milano il 27 marzo siamo in tour Osa a Treviso insomma vi dico tutte le cose come stanno ok? quindi questo è un elemento di produttività veramente interessante e veramente utile ok? le liste broadcast l'abbiamo detto ok? il discorso della efficienza produttiva quando visitate le fiere o gli appuntamenti di settore vostro io cosa faccio? scarico sempre dal web quella che è un attimo Marzulli ciao Mirko quanto tempo la settimana passi a seguire le parti marketing nell'azienda ovviamente delegando ma le parti marketing Andrea ha moltissimo perché la parte marketing è importante però non è solo quella cioè un imprenditore come te come gli altri che mi stanno ascoltando ha la necessità di conoscere tutti quanti questi strumenti qua ricordo ancora una volta a chi si iscrive al gruppo diretta live Mirko Gasparotto diretta live di Messenger di Messenger regalo un pdf di tutti i post miei fatti sul tema produttività sono 30 pagine quindi se vi iscrivete se prendete nota e vi iscrivete su questo discorso qua altra cosa molto importante è ogni tanto disattivare le notifiche disattivate sempre di produttività operativa ovviamente disattivate le notifiche delle chat o delle cose che non sono importanti vi disturbano vi disturbano e vi discogliono ok osa Catania quando? Vincenzo osa Catania a luglio partiamo a fine agosto faremo la prima a luglio o agosto insomma a fine agosto quindi partiamo anche lì noi per quanto riguarda le notifiche io ho attivato solo le notifiche cioè noi abbiamo troppo gli occhi sul telefonino ce l'abbiamo troppo gli occhi sul telefonino i social che è un altro elemento di produttività è molto importante i social vanno guardati a mezz'ora 20 minuti un quarto d'ora a mezz'ora eccetera non di più perché questi qua se no ci mangiano il tempo è molto importante disattivare le notifiche un altro elemento di produttività operativa è mai mettersi online perché se no vi rompono le scatole a manetta non dovete non dovete mettervi le ma Mirko Emanuele Dionisi Mirko quando osa area adriatica quando avremo almeno 50 imprenditori che sono disponibili a ricevere il nostro format Emanuele allora noi arriveremo anche nella fascia adriatica sicuramente potrebbe essere Bari tutti quelli di Bari gruppo giovani imprenditori di Bari il 31 di marzo li vedo a proposito imprenditore 360 che è l'evento il 31 di 14 a un mese siamo a oltre 300 adesioni che è una cosa strepitosa abbiamo dovuto allargare la sala ci sono ancora pochissimi posti pochi posti voglio dire 10 speaker diciamo tra i due giorni 5 imprenditori dei 10 speaker abbiamo 8 speaker digitali quindi affrettatevi imprenditore 360 sta diventando l'evento veramente cool dell'anno ma soprattutto perché chi mi conosce signori io anche in queste dirette siamo già a 30 minuti voglio dire ho dato un sacco una valangata di cose operative è vero o no è vero o no tutti quelli di Osa che mi stanno seguendo sanno benissimo che ci sono valanghe di cose operative che possono modificare la loro esistenza tutto il discorso di produttività che voglio dire è importante va affrontato in una certa maniera e allora io do l'operatività l'operatività importante che io la do e poi voi lo scrivete e attuate quello che volete nella vostra vita ok io sono un po' strategico ma molto pratico sì Vincenzo è vero tu sei ma Vincenzo Greco Manuli è uno di quelli che straordinariamente è un realizzatore di gol Vincenzo bravo e mi piace perché condividere con le persone che poi utilizzano i consigli è molto importante molto importante per la produttività questa è una cosa che voglio dirvi con la calma molto importante che voi rispettiate le vostre priorità quotidiane molto importante e rispettare le cose operative quotidiane cosa significa significa che il 70% delle attività operative ogni giorno deve essere collegato a obiettivi 30% random scrivetevi questa cosa 70% di attività operative ogni giorno collegate a obiettivi 30% random questa è una proporzione giusta che vi serve di fare le cose sulla produttività inserite una cosa di cui abbiamo parlato a Osa Nord-Ovest l'altra sera ed è questa dovete fare anche le cose che non vi piacciono se sulla produttività entrano determinate cose che non vi piacciono beh dovete farle anche queste perché è molto 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 importante che voi facciate tutto ok sulla produttività ok e la produttività cosa vi serve vi serve a fare quello che serve a fare un imprenditore o un grande manager cioè controllare e gestire voi dovete solo controllare e gestire e qui questa è una cosa molto importante sulla produttività ho imparato molto anche dagli errori degli altri gli errori degli altri sono delle scorciatoie di esperienza per noi non so per voi ma per tutti quanti questa è stata così gli errori degli altri sono veramente diciamo delle scorciatoie per la nostra esperienza ok noi ciao Mirko ma come facciamo di iscriverci al gruppo diretta facebook messenger beh dovete io penso che Alessandro adesso scrivo ad Alessandro Borghezan il mio social media manager dovrebbe aver messo il link un attimo solo in diretta sul whatsapp desktop vi faccio vedere che raggiungo Borghezan Borghezan metti online metti online il link dell'iscrizione dell'iscrizione gruppo live messenger ok e eccola qua adesso ve la mette sono sicuro dicevo il discorso del rispetto delle priorità giornaliere è importantissimo il rispetto delle priorità giornaliere è importantissimo Marco Orbellini Mirko come si fa ad iscriversi ad Osa per cortesia allora mi scrivi su messenger e ti do tutte quante le istruzioni su messenger mi scrivi ti metto in contatto con la segreteria vi ricordo Osa è una comunità di imprenditori rigorosamente riservata a imprenditori o professionisti che hanno imprese comunque bisogna essere un imprenditore si parla tra imprenditori si condivide tra imprenditori abbiamo mediamente 250 imprenditori mensilmente che vediamo e ripeto stiamo crescendo abbiamo una sede nel nord ovest centrale a Milano abbiamo una sede nel nord est a Vicenza abbiamo una sede a Roma Osa centro e abbiamo in apertura una sede al sud a Napoli il 24 di maggio ci sarà l'apertura e abbiamo una sede in Sicilia a Catania che sarà aperta a luglio o diciamo fine luglio o fine agosto insomma ok ciao Mirko erano 13 anni che non mi svegliavo con la glicemia con valore 80 ho seguito i tuoi consigli e grazie Carlo grazie grazie per queste manifestazioni io voglio aggiungere valore alle vostre attività alle vostre vite io voglio condividere con voi queste cose perché siccome mi erano chieste sempre in privato e ultimamente negli ultimi anni in maniera molto insistente ho deciso di uscire allo scoperto e fare il personaggio pubblico proprio per questo ma credo di avere molto molto da dire perché a 55 anni con un percorso di 35 anni di vita lavorativa professionale importante ho tante tante cose che possono essere oggi l'elemento era la produttività e credo di avere dato veramente tanto 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 alla produttività credo veramente di avere di avere dato suggerimenti importanti a voi a quelli che si iscrivono al gruppo live do una possibilità di avere un pdf di 30 di 30 pagine sui miei post sulla raccolta allora riepiloghiamo le cose più importanti sul discorso della produttività il primo è Evernote dovete scaricarvi Evernote e smanettarci dentro scaricare Evernote guardare i tutorial smanettarci dentro questa è la cosa più importante Todoist secondo elemento molto importante Todoist è per le cose da fare ogni giorno avete delle cose da fare poi le cancellate vi dà la periodicità vi dà la possibilità di inserirle e condividere con i propri collaboratori del team vi dà la possibilità è semplicissimo semplicissimo e ha un'efficacia incredibile perché ce l'avete sullo smartphone sul pc sul tablet e su qualsiasi connessione su qualsiasi connessione internet ok poi iMindMap le mappe Skype ever lista dei vostri eventi a 4 mesi a 6 mesi o un anno e in ogni caso voi dovete avere sempre questi pezzi di carta qua che sono tutto il cartaceo della vostra vita tutto il cartaceo della vostra vita vedete 5-6 fogli che sono il cartaceo di tutto quanto quello che conta per voi perché se anche siete in un posto dove non avete connessione o altro questo nel vostro raggio visivo nel vostro raggio visivo fa la differenza ma fa la differenza veramente tanto fa la differenza veramente tanto quindi mi state scrivendo e mi state chiedendo anche in privato come stare in contatto con me come stare in contatto con Mirko Gasparotto beh voi avete queste possibilità qua la prima possibilità è quella di iscrivervi a OSA se siete imprenditori o professionisti con impresa quindi entrate e mi vedete una volta al mese lì la seconda possibilità è quella di iscrivervi a imprenditore 360 una o due volte all'anno la prossima è il 13-14 di aprile a Milano e questa è la seconda possibilità altra possibilità è quella di seguirmi sul gruppo i preditori di eccellenza su Facebook è quella lì altra possibilità ancora è quella di seguire le mie live di fine settimana queste sono le possibilità di stare in contatto con me c'è la possibilità anche di fare domande condividere e porre delle cose perché la produttività è una cosa che interessa a tutti ad esempio uno dei 30 e oltre perché qua ve ne ho citati veramente pochi ma sapete qual è è quello di dire no è quello di prendere in mano l'agenda e cancellare altro strumento di produttività prendi in mano l'agenda e cancella cancella le cose che non riguardano i tuoi obiettivi operativi sapete qual è il problema di molti imprenditori troppe cose in piedi troppe cose in piedi troppe cose da fare troppi fronti aperti troppe cose che mangiano il tempo nostro questo è un altro elemento veramente 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 di diciamo distrazione importante e quindi questo dovete eliminarlo veramente perché se no voi andate dietro le priorità degli altri ok quindi dovete cercare di dire di no poi l'altro le altre cose sono la partenza sulle fasce orarie diverse le telefonate sfalsate quelle che sono le cose da fare io parto mi alzo alle 5 al mattino elemento di produttività importante importante elemento di produttività importante imparate ad alzarvi alle 5 al mattino imparate ad alzarvi alle 5 al mattino è molto faticoso le prime volte poi voi vi vi fate io faccio 5 giorni alle 5 al mattino poi sabato o domenica mi faccio fino alle 8 e recupero un pochettino però la fascia 5 e 9 vi da la fascia 5 e 9 e la fascia e la fascia 18 21 è oh vincenzo quadrante 2 come detto in osa esatto quadrante 2 quadrante 2 che ha detto adesso vincenzo greco manuli è il quadrante importante delle cose non urgenti ma importanti basilari la pianificazione della nostra vita la manutenzione degli impegni il punto della situazione degli obiettivi dove siamo arrivati tutte queste cose qua devono essere dentro là e poi espresse qua espresse nelle mappe espresse in tutte le nostre cose pur che siano nel nostro raggio visivo è molto importante ragazzi è molto importante perché se c'è questa consapevolezza voi diventate dei mostri di produttività e ricordatevi che la produttività è una cosa importante e una sul discorso degli eventi prima in privato mi hanno chiesto le fiere cosa fare le fiere andate online fatevi una bella mail di tutto quello che di un messaggio abbastanza che possa andare bene per tutti e poi mandatelo a tutti quanti gli espositori da lì nascono delle cose importanti osati da strumenti in largo anticipo rispetto al mondo imprenditoriale Antonella Campo grazie hai ragione hai ragione stiamo studiando cose interessanti abbiamo fatto un incontro giovedì scorso a Milano con Alberto Giusti strepitoso un incontro insomma che ci ha dato la visione del digital futuro e faremo il prossimo incontro su temi interessantissimi ok quindi il 15 tutti i piemontesi 15 sera che volete venire cos'è OSA tutti quelli del Piemonte giovedì 15 giovedì prossimo siamo a Torino ok al nuovo hotel di Torino quindi avete la possibilità di venire a vedere due anni di vita OSA OSA cos'è? obiettivo strategia azione obiettivo strategia azione è molto importante perché l'imprenditore è tutto quanto lì obiettivo strategia azione se non ci sono queste tre cose qua non c'è impresa non c'è la possibilità ok quindi OSA è un campo permanente è un luogo dove l'imprenditore PMI certo questo è il nostro target l'imprenditore che abbia dai 20 ai 40 anni 50 anni 60 anni massimo diciamo imprenditore che voglia crescere imprenditore che voglia apprendere cose e poi applicarle c'è un sacco di roba la Paola Mortara giovedì sera prima prima della conclusione della serata aveva già posto in essere il consiglio della landing page dei tecnici e degli agenti che noi abbiamo fatto come gruppo eccetera quindi grande valore grande valore veramente per quanto riguarda OSA e per quanto riguarda tutti gli argomenti che trattiamo amici stiamo volgendo verso la fine di questa diretta io sono mi piacerebbe che adesso voi in questi ultimi minuti scriveste dentro lì i presenti qua che mi stanno seguendo cosa avete colto di questa diretta cosa avete cosa vi ha colpito di più e come l'avete vissuta e quali sono le cose che vi sembrano più utili per la vostra vita voglio che siamo interattivi non voglio gente passiva dall'altra parte non voglio eaters eaters sono gli odiatori quelli che ti guardano dicono ma che cazzo fai eccetera voglio gente attiva proattiva scrivetemi sotto ok ah grande ispirazione vedi Vincenzo dice giovedì scorso con Giusti grande ispirazione beh Alberto è un numero uno da questo punto di vista qua ci sarà anche giovedì 15 a Torino Alberto Giusti per un saluto ma ci sarà anche giovedì 15 quindi ci saranno la possibilità di vederlo insomma no che sono che sono vent'anni che perdo tempo Mirko Marco Capelli ottimi punti di riflessione eh sì ma dopo tocca a voi questa roba qua è una riflessione ma tocca a voi tocca alla vita vostra ok togliere e non aggiungere l'agenda bravo giusto giusto tutti consigli molto interessanti e intelligenti Walter Panzeri straordinario Walter veramente ha trasformato la sua vita e ha continuato a dare valore aggiunto e con me vent'anni fa era in giro è vero ok Daniele Rosso ringrazia io veramente ringrazio tutti quanti perché questa roba qua mi piace insomma avevamo in mano Antonella Campo dice avevamo in mano una guida pratica di funnel oltre un anno fa sta spopolando ora come osa stiamo già guardando oltre è vero è vero è vero è vero è vero è vero anche questo da sempre consigli concreti Mauro Mauro è vero solo consigli concreti solo consigli concreti Walter ti meriti tutti quanti diciamo i miei complimenti perché sei una persona che stimo e sei una persona che ha realizzato molto nella vita quindi amici la produttività di oggi volge al fine vi ripeto 13-14 aprile imprenditore360 digitate su web imprenditore360.it numero andate dentro oltre 300 hanno fatto la scelta ci sono ancora pochissime opportunità coglietele ci sono 10 speaker 5 imprenditori da oltre un billion oltre un billion ok quindi dei 10 speaker ci sono 2 speaker gestionali di primissimo livello uno è Valerio Malvizi come fare il business plan tutti noi ci ne abbiamo bisogno di fare il business plan l'altro è Fabio Bolognini per quanto riguarda il book economico e poi 8 speaker digital 8 speaker digital degli 8 ne avremo 2 di grande valore Mick Cosentino oggi Mick è credo il maggior esperto di lead generation che abbiamo in Italia e abbiamo anche Riccardo Pozzoli il creatore del fenomeno Chiara Ferrani ok quindi per chi volesse anche vedere i miei consigli indietro ho oltre 500 video su Youtube sul mio canale Youtube se voi andate sul mio canale Youtube e vi iscrivete avrete accesso di avere oltre 500 canali Youtube amici amici del gruppo imprenditori di eccellenza grazie del vostro ascolto grazie della condivisione condividete nelle vostre baccheche questa live ripeto condividete nelle vostre baccheche questa diretta live schiacciate condivido e così altre persone potranno crescere e altre persone potranno entrare ci vediamo imprenditore 360 Daniele Rossos assolutamente sì grazie a tutti buona domenica buon weekend riposiamo e diamo anche tregua al corpo e spazio al corpo e allo spirito ciao